Cocolosa, mi è venuta addosso un'auto. Come faccio a guadagnarci qualcosina? Intanto trova dei testimoni e fotografa la scena. Ma è stupenda. Cocolosa, come faccio a farla innamorare? Risveglia il suo istinto protettivo. Cocolosa.com mette in rete le competenze di professionisti capaci e affidabili pronti a rispondere alle tue domande ovunque tu sia nel mondo. Vuoi che ti porti in ospedale? No, non c'è bisogno. Dai, ti aprovo qualcosa al bar. Cocolosa, consigliamo un ristorantino, vi sta male. Cocolosa è il professionista delle risposte. Scarica l'app.